Penso che il senso di libertà che dalla corsa in montagna sia impagabile. Sono Alice Minetti, sono laureata in scienze motorie, sono un'allenatrice di atletica leggera, sono una grande appassionata di corsa e del movimento in generale, quindi dello sport. Da un po' di anni a questa parte sono l'ideatrice di un movimento che ha preso nome Ali ai piedi ed è un gruppo di persone accomunate dalla stessa grande passione che è proprio la corsa. Siamo sempre di più, infatti quando si va a correre sui sentieri si incontra sempre qualcuno che sta facendo la stessa attività. Negli ultimi anni stiamo organizzando tante attività di gruppo in cui ci troviamo, in gruppi anche molto numerosi e magari allenarsi proprio con un pochettino più di metodo. La scorsa stagione ho avuto la fortuna di partecipare alle due tappe della Golden Trey World Series che si sono svolte in Italia e questo mi ha dato la grande occasione e opportunità di qualificarmi per la stagione 2024 e di partecipare a questo circuito che inizierà ad aprile con la prima tappa in Giappone, quindi sarò al Via Kobe e per alcune tappe successive di questo circuito sarò accompagnata da Elisa e Liviana, le due ragazze che si stanno allenando con me. La mia speranza è quella di riuscire a trasmettere a sempre più persone il bello di correre, allenarsi in compagnia, potersi confrontare, poter faticare assieme ma allo stesso tempo è veramente divertirsi, ridere e sognare in grande. Grazie a tutti!